Segnatevi questa data 20 maggio 2014 si festeggia il terzo restitution day del movimento 5 stelle il giorno in cui i cittadini a 5 stelle eletti in parlamento staccano un assegno simbolico frutto della scelta di tagliare i propri stipendi e diarie adesso è arrivato il momento di compilare il terzo assegno per celebrare i 5 milioni e mezzo di euro fin qui restituiti dove vanno a finire tutti questi soldi al fondo di garanzia per la piccola e media impresa gestito dal ministero dello sviluppo economico a chi è destinato alle imprese che rispettano questi tre requisiti preliminari massimo 250 occupati fatturato inferiore ai 50 milioni di euro bilancio inferiore a 43 milioni di euro non sai come richiederlo ma è facilissimo basta recarsi alla propria banca oppure ad un confidi e chiedere di poter accedere ad un prestito coperto dal fondo di garanzia per la piccola e media impresa la tua azienda rispetta i prerequisiti vai subito sul sito www.fondidigaranzia.it informati e passa parola grazie a tutti